Oltre a non avere le mascherine, i cinque operai trovati morti nel solaio nella vasca della rete fognaria a Casteldaccia sarebbero stati sprovvisti anche di tutti gli altri dispositivi di sicurezza obbligatori quando si agisce in un ambiente confinato. Per operare in questi spazi è necessario inoltre utilizzare il gas alert, un dispositivo che permette di rilevare inquinanti che è stato poi utilizzato dai vigili del fuoco prima di intervenire nella fogna. Questo strumento ha rilevato ieri la presenza di idrogeno solforato in quantità 10 volte superiore al limite di sicurezza e un gas prodotto dalla degradazione batterica una volta inalato può uccidere in pochi minuti. Gli investigatori si sono ieri recati nella sede della Quadrifoglio SRL, la ditta di Partinico che si è giudicato ai lavori di manutenzione della rete fognaria. Stanno accertando se gli operai siano stati formati per lavorare negli ambienti confinati e se stessero svolgendo mansioni previste dal loro contratto di lavoro. Sono stati interrogati il direttore dei lavori e il responsabile della sicurezza e si sta verificando se il preposto fosse presente al momento dell'intervento.